I think it's time to talk Una sconfitta amara perché tra prima e secondo tempo avete forse probabilmente giocato di più degli avversari però bisogna fare gol e c'è stata un po' troppa superficialità sotto porta Sì la partita ce l'aspettavamo in questi termini infatti non per niente è finita 0-0 il primo tempo perché praticamente entrambe le squadre si stavano tra virgolette studiando tra il primo e il secondo tempo abbiamo rivisto qualcosa a livello di non possesso infatti ha funzionato qualcosa tant'è che presumibilmente il possesso pala è stato a nostro pannaggio il secondo tempo l'unica cosa che posso riprograre ai ragazzi è semplicemente la cinicità sotto porta ma mi sembra che i ragazzi abbiano risposto per bene a quello che ci siamo detti in partita e quindi penso che il seguito sarà positivo Un peccato perché anche dal punto di vista della rotazione con l'innesto nuovo del nuovo entrato Ichi le situazioni potevano andare diversamente è vero sì che mancava dell'olio dall'altra parte una squadra però che ha saputo gestire bene i momenti positivi e negativi una squadra che ha portato a casa il risultato Sì, gli innesti nuovi è chiaro che non si può chiedere tanto ai ragazzi appena arrivato si è subcimentato in alcune situazioni quindi non posso chiedere più di tanto il fatto di Silvio si sapeva che era fuori quindi ho i ragazzi che possono rispondere tranquillamente alle partite e deve essere così altrimenti non facciamo gruppo ripeto il percorso è quello giusto ci può stare una battuta d'arresto anche degli infortuni a livello di imprecisione ma quello fa parte del percorso non c'ho niente da dire ai ragazzi per questo Adesso arriva un momento nel quale bisogna dare fondo soprattutto a rimettere benzina nelle gambe perché i prossimi impegni presumibilmente saranno a gennaio su che cosa bisogna lavorare principalmente? Beh intanto bisognerà lavorare credo sulla precisione questo sì dal punto di vista della testa penso che i ragazzi ci siano penso che abbiano fatto bene dal punto di vista della gestione qualche errore le correggeremo sicuramente anche loro faranno autocritica ma ripeto ci sta tutto non c'è da riprovere niente ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.